musica bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio specialissimo video io sono xuder e ragazzi si è arrivato con un po di ritardo rispetto alle precedenti season ma ragazzi finalmente epic games ha twittato l'immagine la prima il primo teaser della stagione numero 6 ragazzi lo volete vedere dai che lo guardiamo assieme 3 2 1 sbraldere guardalo qua il primissimo la primissima immagine della season 6 ragazzi mostra un lama con gli occhiali da sole con sembra gli zoccoli incrociati cattivissimo molto futuristico perché si vede quasi palesemente che quell'immagine quella quella immagine quella specie di roba che ha sopra la faccia è qualcosa relativo al futuro e c'è anche una didascalia ragazzi epic games scrive every nice party have a good dj quindi ogni grande party ha un grande dj quindi cosa vuol dire ragazzi questa cosa che hanno pubblicato pochissimi minuti fa sul loro twitter io sinceramente non ho mica capito era ovvio che il lama ci fosse perché era ovvio che il lama ci fosse avevo qualche teoria avevo i ragazzi mi hanno mandato alcune teorie riguardanti la l'immagine appena rilasciata e se ragazzi guardiamo bene lo sfondo dell'immagine c'è il nostro cubo ragazzi eccolo si vede benissimo con il lama che potrebbe essere il salvatore del mondo addirittura perché lo sappiamo ragazzi il cubo è prettamente malvagio ma questo lama non mi sembra assolutamente assolutamente malvagio e tra l'altro ragazzi potrebbe addirittura essere questa una delle skin disponibili sono parecchie season che i giocatori di fortnite chiedono la skin del lama in battle royale skin del lama già presente nella modalità save the world ragazzi non sappiamo quale siano le cose ma di certo forse dovremo aspettarci un ritorno del cubo boh chi lo sa che cosa succederà beh ragazzi c'è da dire che questa intanto è la prima figata incredibile relativa alla season 6 che vi ricordo arriverà tra pochissime ore disponibile per tutte le console e ovviamente per i dispositivi mobili e per i pc beh ragazzi voglio sapere qua nei commenti secondo voi che cosa vuole significare questa immagine ragazzi che cos'è perché cosa vuol dire ci sono i fulmini arriva la season 6 insomma ce ne sono un sacco di cose io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su non dimenticatevi di lasciarlo e di iscrivervi al canale noi ci vediamo stasera in live ciao con Musica con Musica con Musica Grazie a tutti.